E ora andiamo a Teglio Veneto dove arriveranno 481 partecipanti da tutta Italia per il premio Teglio Poesia. Abbiamo finalmente i numeri, i dati definitivi dei partecipanti alla quindicesima edizione del premio Teglio Poesia, già Barba Zep. Sono arrivati un totale di 481 partecipanti, compreso le due sezioni, quindi la sezione Under 40 dedicata ai poeti giovani e la sezione dedicata alle scuole. Andando a vedere nel dato specifico, gli Under 40 sono stati in tutto 179, mentre i partecipanti della scuola primaria, quindi le ex scuole elementari 159, la scuola secondaria di primo grado, le ex scuole medie 96, la secondaria di secondo grado, quindi ex scuole superiore, un totale di 57. Quindi abbiamo un risultato che si avvicina di gran lunga a quella della precedente edizione e vede la provenienza, specialmente per quanto riguarda la sezione Under 40, da moltissime regioni italiane. Nella fattispecie ben 52 poeti dal Veneto, 39 del Friuli Venezia Giulia, 14 da Emilia Romagna e Lombardia, 9 dal Piemonte, 8 dalla Toscana, 7 dal Lazio, 4 e 4 da Puglia e Sardegna, 39, 8 Adige e 3, Umbria 2 e poi anche a scendere con Marche Basilicata e Calabria. Da sottolineare anche le quattro partecipazioni dall'estero. La serata di premiazione è prevista per la serata di venerdì 27 giugno prossimo e solo poche settimane prima di questa data sarà possibile conoscere i vincitori delle due sezioni. La serata sarà organizzata a Teglio Veneto, presso la Villa dell'Anna Brezzi, in collaborazione con l'Associazione Culturale Porto Urarese e il Porto dei Benandanti, con la quale abbiamo seguito come Comune di Teglio Veneto, Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale, questo premio. Nella serata sarà possibile ascoltare la lettura delle poesie vincitrici, ma non solo, sarà anche correlata ad accompagnamenti musicali, ma anche altre novità. Quindi l'appuntamento è per venerdì 27 a Teglio Veneto, presso Villa dell'Anna Brezzi.